SLOVACCHIA CRONICALS Un podcast di informazioni, notizie e molto più di noi di SLOVACCHIA di Andrea Paolo Mazzucchetti SLOVACCHIAL CONICALS Ciao a tutti, benvenuti in primo episodio della SLOVACCHIA CRONICAL PODCAST La situazione epidemiologica in SLOVACCHIA non è migliorata e rimane serena Il grande paese è in un sistema scolastico di Covid-19. La situazione è anche critica in regioni. Il prossimo episodio, il 22 febbraio, il 19% di SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL SLOVACCHIA Inoltre 15% di SLOVACCHIAL SLOVACCHIA SLOVACCHIA SLOVACCHIAL Inoltre 15% di 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 SLOVACCHIAL SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL Inoltre 15% di SLOVACCHIAL Non-governmental organizzazioni Criticize il movimento By the Ministry of Health Of the Slovak Republic To abolish the reimbursement Of abortion For women over the age of 40 Amnesty International SLOVACCHIA Considered this To be an intervenance With the human rights of women The Civic Association Citizen Democracy and Responsibility Argued That the measures Create discrimination According to Amnesty International Slovakia The abolition of the exemption Will, in practice Broaden the circle of women For whom abortion Will be economically inaccessible Women over the age of 40 Will have to pay For the termination of pregnancy By the 12th week In fact With this new rule The health insurance company Will not make any reimbursement Definitely There is a lot to do To improve the diverse Inclusion environment In Slovakia But due to this young age As a republic I'm confident There will be much more Improvement in the next future Thank you Be part of the Slovakia Chronicle Family And stay safe